Graziano Di Natale torna a sedersi sulla contesa poltrona di presidente della provincia di Cosenza, questa volta in maniera definitiva, almeno fino a quando non saranno indette le nuove elezioni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, una vicenda lunga e complessa quella relativa alla guida dell'ente. Bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso mese di febbraio, nel momento in cui, per effetto della chiusura anticipata dell'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi, Mario Chiuto e Lino Di Nardo, oltre a perdere lo status di sindaco e di consigliere comunale di Cosenza, dovettero lasciare anche la carica di presidente e di vicepresidente della provincia. Con un ultimo atto, in estremis, Occhiuto nominò vicepresidente Franco Bruno, forzista, vicino alle posizioni del consigliere regionale Fausto Orsomarso, per evitare che al timone dell'ente giungesse in qualità di consigliere anziano, Graziano Di Natale, espressione del Partito Democratico. Un atto illegittimo, secondo il PD, perché giunto fuori tempo massimo, quando Occhiuto era ormai decaduto e privo quindi dei poteri di nomina. In prima essenza, il Tar diede ragione ai democrat, ma subito dopo il Consiglio di Stato sospese l'esecutività del provvedimento emesso dal Tribunale amministrativo regionale, reintegrando Franco Bruno, in attesa di entrare nel merito della questione. E il giudizio di merito è giunto nella tarda serata di ieri, con la sentenza che riporta Graziano Di Natale a ricoprire la carica di presidente della provincia di Cosenza. Salvatore Bruno per la CNews 24